e la marotta league, la marotta league, la marotta league, la marotta league e la marotta league, dai ragazzi la marotta league, è marotta league, ma questi veramente è un meta verso tutto loro, ma che bello, ma come si gode a vederli così figa, hanno una realtà tutta loro hanno, una realtà tutta loro, infatti la famosa marotta league adesso andremo a vederla, questa è la barzelletta della marotta league, perché è una barzelletta, se poi andiamo a vedere gli episodi, soprattutto gli ultimi, quindi la marotta league, la marotta league, quindi in tuo culo agli ossessionati, in tuo culo a chi si pone a cazzo di cane, o chi aspettava, perché vedi, c'è qualche ossessionato che è normale che non posso piacere a tutti, però c'è quello che aspetta che tu sbagli la minima cosa, che dici, hai sbagliato, e Diego sì, Diego ha sbagliato, chiedo scusa, perché qua su questo canale quando si sbaglia si chiede scusa, no come in altri canali che vi prendono per il culo sul calcio mercato e sulla società, e non hanno mai chiesto scusa e ancora continuano, ma aspettiamo tutti al barco, e poi dirò la mia su tanta gente, ma non c'è problema, quindi ho sbagliato, non ero la madunina, uno mi ha scritto, ma tu lo specialista dei miei coglioni, delle coreografie, no? Sono l'unico canale che porta le coreografie, che cazzo vuoi che ti dica? Eh ho sbagliato, succede, può succedere di sbagliare, eh? Perché non avevo visto tutta la prefazione, gli striscioni, eh? Lo sguardo che ti pietrifica, se non leggi quello, io che cazzo ne so, vedo una cosa così, a guardia della città, pensavo alla nostra bella madunina che ci difendesse, no? Quindi uno mi ha scritto specialista, gente che si può, invece gente simpatica che dice, ma no mister cosa stai dicendo? È medusa, ma col senno di poi, poi uno si informa, questo vi dimostra prima di tutto che qui c'è quello che monta i video della curva nord, che potrebbe sapere ogni giorno che cazzo fanno lì, ma non si informa minimamente perché gli piace la sorpresa, e questa è una chiara testimonianza, questa è la prima cosa, che vi ho sempre detto, non voglio sapere mai nulla, però mi incazzo tanto quando non la inquadrano, quindi io i primi dieci minuti non ho visto tutti gli striscioni e quelle robe lì, se no magari dicevo, forse forse non è proprio la madunina, quindi ho sbagliato, ho sbagliato, la gente è subito pronta, è gente triste, è gente triste che gli stai sui coglioni, siccome su questo canale in otto anni si sono dette tante verità e se ne dicono tante di verità, è così, si vince su tante cose questo canale, ma non è che ogni giorno si dice, si vince la vittoria del canale, non ce ne frega un cazzo, non me ne chiava un cazzo, perché io non campo con queste puttanate, ma se ti poni a cazzo sul mio canale te ne vai a fare in culo, è semplicissimo, quindi la stupenda coreografia della nord ragazzi la porteremo poi in un video a parte ovviamente, andate a vedere il video, il video sta spaccando, sono felicissimo, perché ieri ci ho lavorato tanto, parecchio, in molto meno di 24 ore siamo già a 30.000 visual, quindi ho visto che il canale sta crescendo, siamo quasi a 30.000 sul canale Curva Nob, quindi ringrazio tutti e ringrazio soprattutto chi mi ha dato una mano, questo si chiama gioco di squadra, e due o tre persone che mi hanno mandato delle email con WeTransfer e un ragazzo che è praticamente il collega di un mio caro amico milanista, che me li ha mandati via Whatsapp, io vi ringrazio, come avrete visto probabilmente non ci sarà qualcosa di vostro, ma per il semplice fatto che ho avuto grossi problemi con i vostri file ragazzi, perché dovevo scaricare un codec, io l'ho scaricato il codec, però non mi faceva lavorare con Pinnacle, cioè me li faceva, all'inizio non li vedevo proprio, dopo scaricando il codec me li faceva vedere e dico ok, adesso posso lavorarci, nel momento in cui andavo su Pinnacle non me li dava, quindi non lo so il perché, perché comunque di solito quando mi mandano i file, i file, sì che poi sono file compressi, i ragazzi della Nord mi arriva all'MP4, io li vedo tutti, li vedo, quindi per la prossima volta, quindi ringrazio Emiliano Basile, Matteo Basile, Romeo, Santoro che è il collega del mio caro amico, quindi vi dico anche i nomi e vi ringrazio perché è bella questa cosa qui del gioco di squadra nel momento in cui io ho chiesto un aiuto e me l'avete dato, quindi la prossima volta, cerchiamo di capire come mai non funziona, magari mi scrivete via email, io li ho convertiti, cioè ho usato il codec, quindi riuscivo a vedere, ho detto ah che belli che sono, ne utilizzo qualche parte, in realtà su Pinnacle non me li faceva caricare e non potevo lavorarci, quindi ne ho usati due o tre ma non mi ricordo di chi, quindi questo è per quanto riguarda la core, il video è lungo ragazzi e ce n'è da raccontare, ce n'è da parlare, video sfogo, si gode e ci si sfoga, si gode e ci si sfoga perché poi testa bassa e pedalare come ha detto il buon Marotta, il cammino è lungo, il cammino è ancora lungo, però è un bel segnale, un gran bel segnale, è questo segnale, tanta gente dà fastidio insomma, tanta gente sta impazzendo, già era impazzita prima, ricordo sempre che da settembre c'era questa parolina magica, il calendario, il calendario, questo problema non si pone nel momento in cui noi abbiamo, quante partite stiamo facendo e contro chi soprattutto, adesso avremo la Roma di De Rossi che viene da tre vittorie di fila, quindi speriamo che siano un po' appagati ecco, penso che quelle vittorie le avrebbe fatte anche Mourinho, mio modesto parere, non me ne voglia Daniele De Rossi, però insomma vedremo questo Roma-Inter e quindi bisogna prepararsi al meglio perché poi il 28 ci sarà anche il recupero, parlando solo di campionato, ci sarà la Sernitana e poi il recupero con l'Atalanta che sta viaggiando alla grande, quindi testa bassa e pedalare perché non è stato fatto ancora nulla. La varzelletta della Marotta League, come cazzo funziona? Come funziona? Perché a parte qualcuno che, meno male che ci sono parecchi giuventini che dicono no, l'Inter ha meritato di vincere, qualcuno dice sì però l'autogol, ha vinto l'autogol, ma grazie al cazzo? Cioè non è che c'è stato solo l'autogol e non ho fatto una minchia per tutta la partita, vuol dire negare la realtà, perché due miracoli e mezzo li ha fatti il vostro portiere, abbiamo preso un palo, ci siamo mangiati i gol, con tiri fuori, un paio di volte in area di rigore è successo qualcosa, adesso andremo a parlarne perché non vedo tutto quello che si sarebbe creato fosse stato al contrario, perché adesso parliamo anche di Fiorentina-Inter, la sfiorita, ricchia, siamo arrivati alla sfiorita, ma questa è la marotta liga, attenzione, quindi siccome ci sono due episodi, ho sentito parlare di arbitri, che noi siamo stati aiutati all'intervio, io ci sono due episodi in area di rigore, che insomma non è che sono proprio ben chiari, uno c'è proprio un bel fermo immagine che lì è proprio chiaro, l'altro se andate a vedere, anzi andate a vedere la every action mie di Stefanino e di Sommer che era accanto a noi sul divano, se andate a vedere, quando vediamo il replay io e Stefanino, diciamo tutti e due, sì momento, perché Pardo dice spalla e spalla, spalla è il cazzo, è spalla schiera ma mezzo braccio perché lo spinge da dietro, il rigore su Turam di Bremer, è passato in cavalleria perché poi passano in cavalleria, quando l'Inter vince, ed è dall'inizio anno che è così, segnatevele tutte queste, adesso lo andiamo a vedere, ma segnatevele tutte raga, perché si è vinto e non se ne parla, tutto lì, quindi andiamo a vedere questa marotta lì e poi andiamo a vedere anche il discorso, quello che veramente è una grande pagliacciata che vogliono portare avanti, ma soprattutto i media, è che pompano, sta cosa qui la andiamo a vedere perché finalmente andiamo a estrapolare i valori di una rosa e quello che è stato speso e diverse cose insomma, ma andiamo a vedere prima di tutto quello che è successo una settimana fa e andiamo a leggere, andiamo a leggere, perché è la sfioricchia, quindi Sommer qui la sfioricchia, ok? Quindi il VAR dice, il VAR dice, la sfioricchia non è che la prende, arrivano contestualmente sul pallone, contestualmente non mi sembra proprio, praticamente contemporaneamente, dove cazzo lo vede contemporaneamente lo sa solo lui, è molto contestuale, arrivano contestualmente sul pallone, lo ripete, no? Aureliano dice, ma non prende il pallone Sommer, a me sembrava che lo prendesse, Aureliano l'aveva visto bene, che poi gli va addosso, che poi lo scanocchia, ci mancherebbe, sono d'accordo con voi, è stato, non doveva uscire così, il portiere può uscire in area piccola con le mani, con i pugni, da sempre, da sempre, è sempre stato così, se prende prima il pallone di solito non è fallo del portiere, anche se poi subito dopo chiappa l'avversario, non fosse stato viceversa, avrei detto il rigore tutta la vita, gli tira uno sganassone e dopo prende il pallone, quindi Aureliano è convinto, e quello dice, praticamente no, mi sembrava che lo prendesse, e quello gli dice dal Val, praticamente no, lo sfioricchia, arriva poi la munizione per imprudenza del portiere, cioè ragazzi, questa è la varotta league, ok? Mi hanno dato un rigore contro, che meno male che poi quel Pirla l'ha tirato solito suo modo, perché se andate a vedere come li tira, li tira tutti così e Zom che l'aveva studiato, si è buttato, è quella Salavar, perché non gli hanno fatto vedere questa immagine ad Aureliano, che sarebbe rimasto sulla sua decisione, dove cazzo la sfioricchia, dov'è il contestualmente qui? Dov'è la marotta league qui? Oh fenomeni, che parlate di arbitri a favore dell'Inter, che ha avuto tre rigori contro nell'ultime quattro partite, ok? I due rigori parliamone, Euro è questo, clamoroso, ma soprattutto quelli che parlano, che non hanno mai avuto un cazzo di rigore contro, questi si difendono per 70 minuti e non hanno mai avuto un rigore contro, ma guarda te, e beh grazie al cazzo, sai, se poi certe cose non vengono analizzate a dovere, o da doveri, come me le spiegano queste cose qui? Perché qua la palla la prende dopo con la gamba di richiamo, ma il piede destro va dritto sul piede di Turan, ma di che cazzo stiamo parlando? Qualche go, boh a bagliaccio, com'è l'Inter? Aiutata dagli arbitri contro di voi, vi abbiamo fatto un culo così, e non mi hanno dato un rigore e mezzo, perché secondo me tra i due un rigore e mezzo c'è, perché per me questo è rigore, ma pure l'altro, ma pure l'altro, su Turan, perché non è spalla o spalla di fianco, allora dico no, è spalla, ma da dietro il cazzo non è spalla, da dietro è spinta, che è diverso, con l'uomo lanciato, quindi questa è la Varotta League, questa è coach, non le fai vedere? Fossero state al contrario le maglie, minchia che post che faceva, il fenomeno, lo sbadigliatore, l'ossessionato numero uno rosso nero, ma ce n'è diversi, me li state segnalando ragazzi, ma non è che posso combattere contro tutti, ma addirittura Viscidicchio, è vero, ci chiama la fallitese e tutto, ha avuto le palle, l'onestà, tra virgolette, parliamo di onestà di Viscidicchio, ma almeno ha detto no, e gli sta pure stretto all'Inter sto risultato, gli sta stretto all'Inter sto risultato, per dirlo Viscidicchio, eh, cintura nera di capelli, ma di che cazzo, poi siamo falliti, abbiamo i debiti, tutte le minchiate che dice lui, ma per dirlo lui, per quello quando ho sentito la Bagliacci ho detto no vabbè ma questo non sta proprio tanto bene, e poi ho visto il video a seguire anche dove c'è poco da spiegare, vi abbiamo fatto un culo così, è finita solo 1-0, eh Milano col Milan, con un cazzo di autogol di Locatelli, ma non mi sembrava che la Juve avesse fatto l'azione che ha fatto l'Inter, eppure lì pontificata la Juve, guarda te, guarda caso, quindi, ma è la Marotta League, tutte queste grandi puttanate, e poi passiamo ragazzi a questo discorso che è stupendo, che è stupendo che se la raccontano, se la suonano e se la cantano, e qua mi riferisco anche agli intertristi, agli zang out dei miei coglioni, a quelli che rompono il cazzo da 3 anni a zang e sperano che arrivi un altro, con 6 trofei, con 2 finali europei e con questo lavoro qui, perché che non è che chi spende di più vince, ma quello si dice da 8 anni che il calcio non è figurine, ok? Non sono figurine panini, quindi, discorso da inizio campionato, zaghi deve vincere lo scudetto, la rosa, la rosa, l'Inter compra, spande, spande, ma di che cazzo stiamo parlando? Il centrocampo dell'Inter, il centrocampo dell'Inter è costato 50 milioni, 50 barella, 0 Mkhitaryan, 0 Cialanoglu, il centrocampo, in attacco è costato 30 Zucche Lautaro e 0 Turan, 8, 8 Arnautovic, stiamo parlando di queste cifre, l'Inter è stata costruita così, Darmiano a 0, a Cerbi a 0, nel corso degli anni, non è una cosa di quest'anno, quindi a tanti fenomeni che parlano in tv, che scrivono, a tanti interisti che rompono i coglioni anche, o a tanti che dicono che Inzaghi è costratto a vincere per lo squadrone che ha, il costo della rosa è 225 milioni, cioè, ragazzi, contro 450, è la metà, la nostra rosa è costata la metà di questi quattro fenomeni qua, che hanno pagliacciato per un mese, il primo è il loro allenatore, e poi siamo noi i permalosi, ok? Quello che dice che deve arrivare a qua, no, noi si guarda il quarto posto, la tua rosa è costata il doppio, tu prendi il doppio di Inzaghi, ma la mia rosa, eh, col lavoro che è stato fatto in questi anni, vale più della tua, guarda te, guarda te, quindi, come funziona? E quello dico anche agli zangao dei miei coglioni, perché se vi sta sul cazzo cinese a prescindere, è un altro discorso, ma non si può negare l'evidenza del lavoro che si sta facendo da anni, ok? E Marotta, andate a leggere, ha spiegato anche come si prendono i parametri di zero e quanta gente adesso voglia venire all'Inter, tanti che vogliono venire o tanti che vogliono ritornare, eh? Tutti quelli che se ne vanno vogliono ritornare tutti, come cazzo, eh? Eppure l'Inter è fallita, rinnovano tutti, hanno rinnovato tutta la dirigenza, ma l'Inter è fallita, quindi voi continuate a stare nel vostro cazzo di metaverso, ok? Pensate quello che volete, ma questa è la realtà, quelli obbligati a vincere dovreste essere voi con una ciughina allegri, 9 milioni di euro a stagione, eh? E questo se non vince un cazzo sarebbe il terzo anno senza vincere una minchia, quello che era tornato come salvatore. E in tre anni quanti minchia di soldi avete speso? Che il nostro centrocampo è praticamente il costo di Bremer, 50 zucche. Ma Inzaghi viene vincendo Scudetto, è il grande lavoro di tutti, di tutti, dalla proprietà che ha scelto gli uomini giusti, le persone giuste e soprattutto dagli uomini che abbiamo, perché questo è un gruppo unito di uomini e chiudiamo il video che sta diventando lungo, andate a vedere il video della Nord, ok? Un'altra cosa che ti fa capire ancora di più come cazzo è unito questo gruppo, perché io ieri, io a fine partita poi ho fatto il video, non ho visto tutte le mani, montando il video, ok? Video di Sergione che saluto, bellissimo, e la squadra sotto la curva, guardate Klaassen, Klaassen, questo sconosciuto che è venuto a Milano per un trappianto di capelli, ma quando entra in campo il suo, in qualche modo lo fa, ma al di là di quello, che è entrato anche bene in campo, non mi è dispiaciuto, ma il fatto che lui sia lì a festeggiare e a scherzare, eppure è uno degli ultimi, e invece no, e invece no, questo ti fa capire tante cose, un Klaassen che è lì a festeggiare con tutti gli altri come se avesse dato lui per 80 minuti, questo ti fa capire che cazzo di gruppo unito c'è, e qual è l'intento, quindi, ho detto la mia su un po' di cose ragazzi, preparatevi perché adesso tra domani e dopo domani facciamo un bel video sulla coreografia, chiedo scusa, ho sbagliato, non era la Madunina, è Medusa, comunque anche il mister può sbagliare, a volte, io voglio vedere, io voglio vedere quando tanta gente che ha sbagliato e sbaglia, ok, ha sbagliato nel corso degli anni e continua a sbagliare, chiederà scusa, ma bisogna avere le palle, bisogna essere uomini, condivisione dei video, iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, attivate la campanella a destinazione 10K, ciao!